Tudor Style, un orologio classico e moderno. Se stai cercando un orologio che sia al tempo stesso classico e moderno, il Tudor Style è il modello che fa per te. Questo orologio è una creazione di Tudor, una marca svizzera che ha una lunga storia di eccellenza e qualità nell'orologeria. Il Tudor Style è un orologio che si ispira ai classici orologi da polso, ma che offre delle caratteristiche contemporanee e raffinate. Tudor è stata fondata nel 1926 da Hans Wilsdorf, lo stesso imprenditore che ha creato Rolex. Wilsdorf voleva offrire al pubblico degli orologi affidabili e accessibili, con lo stesso standard di qualità di Rolex, ma con un prezzo più competitivo. Tudor ha iniziato a produrre il modello Style, come una versione più classica, elegante e raffinata dei suoi orologi. Il Tudor Style è stato lanciato nel 2014, come parte della collezione Tudor, che celebra i modelli storici della marca. Il Tudor Style ha conservato le linee e i colori dei primi modelli classici di Tudor, ma con alcune migliorie e aggiornamenti. Lo Style è caratterizzato da una cassa elegante, con una forma tondeggiante, e da una lunetta liscia o zigrinata, che conferisce a questo segnatempo un aspetto classico e raffinato. Lo Style è disponibile in diverse varianti di quadrante e cinturino, per soddisfare i gusti e le esigenze di una clientela esigente. Lo Style è anche dotato della funzione di data visualizzata da una finestrella a ore 3, che lo rende più pratico e funzionale. Il Tudor Style ha anche una resistenza all'acqua fino a 100 metri di profondità. Il Tudor Style è un orologio che si distingue per il suo design minimalista e senza tempo. La cassa solida, spesso realizzata in acciaio inossidabile, conferisce al modello una durata eccezionale. Gli indici a bastone e le lancette Dauphin aggiungono uno stile soft ed elegante al Tudor Style. Il quadrante è disponibile in diverse varianti di colore, tra cui il nero, il blu, il grigio e il verde, con dettagli che richiamano il tema dell'eleganza. Il Tudor Style offre una varietà di opzioni di cinturino, tra cui l'acciaio inossidabile, l'oro e la pelle. Il Tudor Style è un orologio che vanta delle caratteristiche tecniche avanzate, che ne garantiscono la precisione e la durata. Il Tudor Style è dotato di un movimento meccanico a carica automatica, il calibro Tudor 601, che è un movimento affidabile e preciso. Il Tudor Style è un orologio che rappresenta la perfetta fusione tra eleganza e funzionalità. L'attenzione ai dettagli, il design senza tempo e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono una scelta ideale per gli amanti degli orologi e per coloro che cercano un compagno affidabile per le loro avventure. Un orologio che non solo segna il tempo, ma incanta gli sguardi con la sua eleganza senza tempo. Grazie. Grazie.